Vergogna, 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 vergogna Cesare Battisti che è un criminale comune, un assassino, un latro, una persona che si rifiuta di pagare il proprio conto con la giustizia. Noi abbiamo ricevuto tante attestazioni di solidarietà da parte del popolo brasiliano, dei cittadini brasiliani e questo a me sembra un segnale molto importante. Io vivo qua da dieci anni, tutti i brasiliani che sono in Italia siamo contro questa liberazione di Battista, non è giusto. Penso che anche quelli che sono i brasiliani, l'unica persona che ha a favore sarà il governo brasiliano perché non so cosa passa nella testa loro. In consiglio regionale del Lazio abbiamo presentato una mozione che possa rivedere tutti gli accordi commerciali, turistici e diplomatici tra la regione Lazio e le regioni o il governo o gli enti anche pubblici e privati del Brasile.